Si è conclusa domenica 28 luglio la sedicesima edizione di Salerno Danza da Mare. L'evento ha preso il via lo scorso 25 luglio presso il centro sociale di Salerno, dove moltissimi giovani danzatori provenienti da tutta Italia e dall'estero hanno avuto la possibilità di prendere parte all'atteso campus estivo dedicato alla danza con stage, laboratori coreografici e workshop tenuti da maestri di fama internazionale, televisiva e teatrale. Le intense giornate di danza si sono concluse sul palco del teatro dell'auditorium del centro sociale di Salerno con il decimo concorso internazionale di danza. Alla presenza della giuria composta dai maestri André Del Rocher, Bruno Milo, Oliviero Bifulco, Little Phil e Alessia Landi. Una manifestazione di respiro internazionale che ha regalato attimi di emozione a tutti gli allievi che hanno partecipato con passione ed entusiasmo, preparando le diverse coreografie in pochissimo tempo. Gli addetti ai lavori sono già proiettati alla prossima edizione che riserverà tante novità.